In partenza per New York, a Fancy Food, dove noi ci saremo come Calabria con le più importanti aziende del settore agroalimentare calabrese, per dimostrare che ancora una volta la Calabria c'è, che vuole affermarsi, è già presente sul mercato nordamericano, ma vuole ancora di più presentarsi con le sue tantissime ricchezze. Il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America è in programma dal 25 al 27 giugno. L'America cerca i prodotti italiani sempre più e la Calabria, grazie al Presidente Occhiuta, Dipartimento Agricoltura guidato magistralmente dall'assessore Gianluca Gallo, sta lavorando alla cremente in Italia e all'estero affinché i prodotti calabresi trovino sempre più sbocchi e gli USA oggi più che mai rappresentano il luogo ideale per valorizzare al massimo il prodotto calabrese. E faremo questo con una missione istituzionale insieme ai nostri imprenditori, incontrando il Ministro Lollobrigida e tutti coloro i quali ci potranno insieme a Lice aiutare ad andare ancora più forte su un mercato ricco che può recepire la qualità delle nostre produzioni.